Ha salito alle spalle e colpito con tre coltellate e quanto accaduto la scorsa notte a Bellizzi. Vittima dell'aggressione un 22enne del posto, soccorso prontamente dagli operatori del 118, che sono stati allertati dai residenti i quali hanno udito il giovane urlare di dolore. Una volta condotto all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, il 22enne è stato sottoposto alle cure del caso e giudicato guaribile in 15 giorni per via delle ferite riportate alla spalla. Sul fatto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, che stanno provando a ricostruire l'accaduto per risalire ai responsabili dell'aggressione, che dopo l'accoltellamento sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. La pista più accreditata al momento è quella legata ad un regolamento di conti. Grazie a tutti.